barra mieti trebbiatura girasole versatile leggera ed estremamente resistente sono queste le principali caratteristiche della barra mieti trebbiatura girasole zaffrani indicative della straordinaria efficienza di questo macchinario in grado di garantire un sistema di raccolta ad elevata produttività pensato per la raccolta dei girasoli è ottimo anche per il mais da collina e il sorgo interamente costruita in profilati e lamiera stampata la barra mieti trebbiatura girasole non necessita di alcuna particolare operazione di montaggio dal momento che le manovre di aggancio sono le medesime che vanno effettuate per una normale piattaforma da frumento tale caratteristica permette alla macchina una estrema versatilità che si esprime nella possibilità di sfruttare la stessa barra anche su diversi modelli e tipologie di mieti trebbi cambiando solo la flangia di aggancio bullonata e alcuni ingranaggi la barra mieti trebbiatura girasole zaffrani è proposta in diverse larghezze nei seguenti modelli 360 400 440 490 540 590 640 690 740 le fiancate laterali perfettamente lisce e la speciale costruzione dell'aspo munito di una particolare dentatura riducono drasticamente le possibilità che si verifichino ingolfamenti tipici di altri sistemi di raccolta kit e adattamenti elevando al massimo la velocità della mieti trebbia in fase di lavoro anche la velocità di avanzamento della macchina è agevolata dalla forma costruttiva della barra molto lineare e priva di sporgenze che permette la raccolta del girasole senza scuotimento diminuendo perciò le perdite la riduzione delle perdite di prodotto è data anche da altre particolari peculiarità tecniche come le punte strette intervallate da un canale di ingresso di circa 7 centimetri che permettono inoltre la raccolta del girasole trasversalmente alla semina un sistema decisamente più avanzato rispetto ad altri che costringono il movimento della macchina entro i rigidi binari costituiti dalle file della semina questa forma costruttiva ottimizzata nei dettagli tecnici consente ancora il taglio del girasole appena sotto la calatide di modo che la maggior parte del gambo possa rimanere sul terreno la conseguenza sarà una minore presenza di infurità nel serbatoio della mieti trebbia e un'umidità del girasole di molto inferiore rispetto ad altri sistemi di raccolta non solo la mieti trebbia risulterà meno sollecitata e affaticata nella parte trebbiante con conseguente riduzione del logorio e maggiore durata della macchina la barra mieti trebbiatura girasole zaffrani offre inoltre la possibilità di operare durante la fase di raccolta del girasole qualora si presentino condizioni di allettamento del prodotto ad un'altezza minima dal suolo di circa 6-8 centimetri la movimentazione della lama falciante è data da un gruppo a squadro oscillante robusto ed efficiente mentre la frizione inserita nel rullo convogliatore evita danni alla barra e al canale della mieti trebbia in presenza di corpi estranei quali arbusti legnosi sassi e quant'altro potrebbe essere presente durante le fasi di raccolta importante sottolineare che per tutte queste caratteristiche la manutenzione della barra mieti trebbiatura girasole zaffrani decisamente semplificata risulta molto limitata rispetto ai tradizionali sistemi più pesanti e soggetti a rottura grazie a tutti grazie a tutti